Era un bel giorno di maggio, il sole coceva, coceva, il fringuello cantava, cantava. E ti pariva che non spuntava come un fungo? Come sa, non ci prendiamo troppe confidenze con mia moglie. No, no, il marito. Avete capito che è mio marito, però che nel film non è così simpatico come è nella vita reale. Confermo, anzi, anzi piuttosto brutto. E vabbè, che dire, noi vi aspettiamo al cinema. Mi raccomando, venite. Se no, tutto che si imparano non è falso la pena. Un saluto da Enzo Strippoli. Da Annalena Cardenio. E da Franco De Giro, mi raccomando, venite al cinema. Ti aspettiamo, eh. Ciao. Era un bel giorno di maggio, il sole coceva, coceva, il fringuello cantava, cantava. Dal 9 di novembre del 2010 nei cinema ci sarà la proiezione di Piripicchio, l'ultima mossa. Mi raccomando, perché gli assenti hanno sempre torto e voi dovete avere sempre ragione. Venite a vedere Piripicchio, l'ultima mossa, dal 9 di novembre in tutti i cinematografi. Mi raccomando. Sarà più facile venirlo a vedere per le persone che hanno la nostra età, ma io invito anche i ragazzi, i giovani, a venire a vedere questa scuola di teatro, questa scuola di spettacolo, che è stato questo personaggio di Piripicchio, che è stato un personaggio veramente che ha fatto la storia degli artisti di strada. Mi raccomando, non vado a vedere la critica da Frank De Giro, venite a vedere il film Piripicchio, l'ultima mossa, dal 9 di novembre in tutti i cinema. Il film Piripicchio, l'ultima mossa.